E beh io direi di presentarci Ci presentiamo, vai Allora io sono Marco Di Nardi del quarto C Io sono Marghe D'Agostino del quarto E E qua ci dovrebbe stare un altro applauso Grazie Siamo del blog Ammazza Caffè È un blog che intervista gente e fa cose Questo è il nostro slogan Oggi ci troviamo qui per un evento molto importante Non so chi era già stato all'evento con Vinicio Marchioni Francesco Montanari Alzate le mani Wow Uno alla volta per favore No siamo troppi E niente questo è Ammazza Caffè Ci potete trovare su Instagram, Facebook, Youtube Sul sito ufficiale Ovunque anche per strada ci potete incontrare E questo invece è Caffè Rossellini Caffè Rossellini ce lo spiega Margherita Caffè Rossellini è diciamo una serie se vogliamo dire così Dove invitiamo degli ospiti, doppiatori, autori E continuano a seguirci perché questo non sarà l'ultimo incontro E chiacchieriamo con loro sul loro lavoro Su come è nata la loro passione per il lavoro che fanno E direi però prima di cominciare di ringraziare Chi ha permesso di essere qui oggi Quindi grazie a me No sto scherzando Ringraziamo la scuola, l'istituto Roberto Rossellini Che come al solito è Un grande applauso Volevamo ringraziare anche la preside Che con pazienza ci permette sempre questi progetti Che sono unici nel genere E inoltre noi volevamo ringraziare anche la prof Giannini Perché ci sostiene ogni volta con la sua pazienza E anche qui l'applauso ci sta tutto Quindi gli ospiti ci sono pronti? Va bene, io direi di annunciarli E diamo il benvenuto a Roberto Draghetti Giorgio Lopez e Alex Politori Forte l'applauso Ciao Dove ci volete, dove volete Prego, accomodate Io mi sento in piedi Siete in piedi? Va bene Ok, perfetto Abbiamo fatto Eccoci qua Eccoci qua Come va? Tutto bene? Tutto bene? Non meno male Innanzitutto grazie di essere venuti oggi Non sono cose che fanno tutti questi E questi ci tenevo a dirlo Diciamo questo lo Sì Questo lo girano loro Nonno Allora innanzitutto Ci tenevo a caricare il pubblico Perché nello scorso evento È successo che nessuno voleva fare domande Poi all'ultimo Quando si sono accorti Che gli attori se ne stavano andando Tutti vogliono fare domande Quindi Fin dall'inizio Iniziate a fare domande Ogni volta che ve lo sentite Alzate le mani Noi vi passiamo il microfono Siamo pronti Allora Buon pomeriggio a tutti Buonasera Io sono sempre stato nonno Anche quando avevo vent'anni Oh è così Ve lo dico perché Anche il sarto Tirelli Quando mi misurava I costumi Per il teatro Per lo stabile di Genova Madre il coraggio E i suoi figli Di Brecht Che feci Un po' di anni fa Nel lontano giurassico Eh me lo ricordo La memoria è rimasta intatta E mi diceva Ma tu sei nato vecchio Eh sì Ci avevo Non mi ricordo quanto Però era Il 68 69 69 Quindi Era un po' di tempo fa E tu non eri nato Però a te ti hanno fatto santo E a me ci vuole ancora molto tempo Prima che Riescono a farmi santo Come è iniziata La passione Per questo lavoro Da sempre Da quando ero piccolo E' una cosa Quasi viscerale Naturale E penso che Ciascuno di voi Per fare questo indirizzo di studi Abbia necessariamente dentro Un fuochetto acceso E magari Che timidamente Cerca di Sompettare Di mandare crepitì E poi Prima o poi Magari si affaccerà E diventerà Una brace Piuttosto Ardente Bella alta E io ve lo auguro È una La passione Viene dal Dal Verbo Patire È una sorta Di sofferenza Ce l'hai dentro Cominci a nascerti Non lo sai perché Inizialmente Non capisci Però fai Poi dopo Una certa età Perdi Questa purezza Nel senso che Cominci ad avere A ricevere ordini E allora Naturalmente Cominci a catalogarti All'interno Di sovrastrutture E non sei più Così puro E libero Però poi Ti ritorna E a me È ritornata Esattamente Un giorno Davanti alla Banca Nazionale Del Lavoro Dove c'era Papà Che era Ispettore A Roma Via Bissolati E io ero vestito Da indiano Allora Avevo preso Degli abiti In mezzi Trasparenti C'erano I capelli Lunghi Quasi Gli orecchini Irriconoscibili Cioè Avevo i capelli Come i tuoi Però neri E L'usciere Disse Ma Cosa Deve fare Qui Davanti Alla Banca Nazionale Del Lavoro Via Bissolati Io sono Il figlio Del dottor Lovez Ha detto Con i sandali Presi a Pontevecchio E col vestito Argentato Con le frange Con questi capelli Era un po' Feci quasi Inorridire Il povero papà Che me voleva Scaffare in bacca Invece Io ho fatto Tutt'altro Ho fatto La mia strada Ho fatto Il concorso Ho fatto Gli studi Senza fare Tutta la Coronistoria Ma gli studi Ci vogliono Per avere Un po' Di consapevolezza In più Altrimenti È difficile Riuscire A entrare In una Visione Che è quella Che hai Senza sapere Che cos'è Questa visione Perché quando sei Giovane Ce l'hai Istintivamente Ma non lo sai Lo capirai poi Piano piano Perché la strada È come in un videogioco Si delinea Di volta In volta Man mano Che la percorri E si apre una porta Si apre qualche cosa E tu vai Naturalmente I requisiti Sono due Principalmente Il primo E più importante Di tutti È Il coraggio Il coraggio Di vivere Il coraggio Di vivere È una cosa Che i giovani Hanno Ma è più Spensieratezza E più A volte Non è consapevole È una cosa Che si butta lì Così È eccessiva Il coraggio Prudente Di chi Comincia a conoscere E a capire Questo è importante Cioè la prudenza È importante Perché La prudenza È la capacità Di valutare Che non è immediata Viene dopo Inizialmente ci vuole Questa foga Questa cosa Che viene dalla pancia Dal nostro ombelico Che è La nostra vita Il legame Che possiamo avere Con la vita Con la mamma Con tutto Con la vita Con l'universo Non è Tanto il cervello È l'ombelico Poi viene il cervello Ragioni E fai sì Che Le strade Possano cominciare A delinearsi Oltre al coraggio Ci vuole Un qualche cosa Che tutti noi Abbiamo Indistintamente Individualmente E anche collettivamente Solo che magari Per cose diverse Vale a dire Il talento Il talento Non lo si può insegnare È una cosa Che abbiamo dentro O non ce l'abbiamo E lo possiamo avere Per tante cose Non è necessario Averlo Per fare l'artista Non è necessario Cioè È necessario Averlo Per fare l'artista Ma ci deve essere Lo devi scoprire Devi gozare Devi anche soffrire L'esempio è Nel momento in cui Tu padre Dice Ah sì E basta Arrangiati E metterli Arrangiati Ti devi arrangiare Devi poter Andare anche Alle mense popolari E mangiare E mangiare Con quello che c'hai Chi sei Chi sei Questo lo dico a tutti Sti ragazzi Tutti sti giovani E lo dico anche a me stesso Perché io ancora Non lo so Eppure avendo 71 anni Non so Realmente Chi sono Forse ne ho una vaga Consapevolezza Però ho usato Sicuramente E se non avevo Una lira Prima Vi posso assicurare Che non ho una lira Oggi Quindi Chi pensa A scorciatoie Possibili Facendo Questa professione O questo mestiere Non pensa Bene Perché Per raggiungere Un obiettivo E soprattutto Per oltrepassare Girandolo O distruggendolo O scavalcandolo Un muro Bisogna avere La forza Il coraggio E la valutazione Di sé Con un senso Della misura Altrimenti Non lo fai Se sei troppo Impetuoso Rischi di fare Una strage Se sei troppo Timido Rischi di non fare Nulla Però voi Avendo fatto Già questa scelta Siete orientati Ad avere Secondo me Secondo quello Che posso immaginare Io Una valutazione Onnicomprensiva Delle cose Vale a dire Un po' Totalizzante Avere questa visione Già è tanto Voler intraprendere Questa via Sapendo Sapendo Che la cosa Più importante Non è Pensare Unicamente Al successo Personale Che potrà anche Esserci O non esserci Ma pensare Al successo Dell'obiettivo Che è Il raggiungimento Di uno scopo Vero Avere La realizzazione Di questa visione Fare un film Bello Brutto Non ha importanza Riuscire a Riuscire a interpretarlo Come attori Come disegnatori Di cartoni Come dialoghisti Di sceneggiature Come Qualsiasi Come architetti Di scenografie Come Tecnici Del suono E voi In questo istituto Sicuramente Studiate Queste cose Unitamente A cose Che fanno parte Di una Cultura Più generale Come può essere La lingua italiana Come può essere La storia A questo punto Io Direi che ho finito Alessandro C'è? Vieni fuori Coniglietto Dove stai? Alessandro Vieni che ti devo Interrogare Se te ne sei andato Ci sei Vieni Vieni Alessandro Vieni come si fa Così Siedi Eh Te preoccupa Dopo verrà Anche l'altro Se mi è venuto io Va bene Intanto Alessandro Fammi tu Una domanda O falla a Draghetti Che ti vorrà Rispondere No ma forse No magari ci racconti Anche lei Cioè Come è nata La passione Del doppiaggio Come si è sviluppata Come è nata La passione Da quando Ha cominciato Che non è mai banale Come domanda Come è nata Non è nata Nel senso che Io ho iniziato A fare questo lavoro A differenza di Giorgio Per fortuna Nel senso che È stato un caso Con mia sorella Pino Insegno Roberto Ciufoli Se li conoscete bene Sono uguale Avevamo messo su uno spettacolino Studiavo E Abbiamo fatto Questo spettacolo Divertendoci Abbiamo affittato un teatro Giù a Testaccio Qui vicino Abbiamo fatto tre repliche No pagava il padre di Pino Quindi Insomma Si affittava poco Abbiamo fatto tre spettacoli Pensando Il primo c'erano i parenti Il secondo gli amici Il terzo Pensavamo che non sarebbe venuto nessuno Invece abbiamo riempito il teatro E abbiamo detto Beh proviamoci E abbiamo cominciato a fare i cretini Divertendoci Poi da lì Cambia molto Lì devi iniziare a studiare Fare edizione Esercitarti Andare in giro con una matita in bocca Per pulire i difetti Che uno Può avere E il doppiaggio è arrivato dopo È arrivato Una decina di anni dopo Ecco perché l'ho iniziato Perché Perché il teatro è come il crimine Non paga Nel senso che Stavo fuori in tournée Sei mesi Ma con il doppiaggio Eh? Vabbè quello dopo E quindi C'ho una bella voce Decente Dicono Ma non è quello Non è la voce il doppiaggio Adesso Seriamente Devi sapere essere un attore Devi essere un attore Devi saper fare l'attore Poi il doppiaggio viene dopo Non mi piacciono moltissimo Le scuole che Prettamente di doppiaggio Per me sono inutili Tu devi essere un attore E poi fare una scuola di doppiaggio Devi saper dire le battute Non le devi dire Come ti hanno insegnato A dire Perché in dieci Sapete dire la stessa battuta Alla stessa maniera Io personalmente Quando sento una battuta Al cinema, al teatro Devo provare l'emozione Che si accorde A ridere Piangere Pensare Io penso poco Non è una battuta Saper dire bene le battute Siamo bravi tutti Se studiamo Far finta di non saper recitare E dire una battuta È la cosa principale Sei vero Arrivi alla gente Che sia doppiaggio Che sia teatro Che probabilmente È l'arte più Più difficile E più bella Perché arrivi immediatamente Al pubblico Cinema, fiction TV È Non dico che è più fredda Però vi arriva Già confezionata Il teatro No Ogni sera È differente E quindi Se sei un bravo attore Ogni sera Fai uno spettacolo Uguale ma differente Perché faccio doppiaggio? Perché mi piace Perché io durante il giorno Posso essere buono Cattivo Stupido Belloccio Documentari Reality E io in quelle tre ore Sono un'altra persona Amo questo lavoro Amo essere attore Perché non sono me stesso Fare l'attore E riportare se stesso Nella vita È una cazzata Si può dire Fare l'attore Dico Una cazzata L'ho detto Perché è bello recitare Tu non sei te stesso Magari non sembro Forse sì Io sono molto introverso E anche timido E cazzeggio molto Proprio per superare questo Questo impasse Che posso avere Fare l'attore Mi libera Mi dà la possibilità Di non essere me stesso E sfruttare Quello che io provo Per essere un'altra persona Penso sia Il dono più bello Che ti può fare Questo mestiere Puoi fare il doppiatore Non è così facile Come sembra Perché? Perché c'è una tecnica C'è una dizione C'è una recitazione Che è fondamentale Ci sono i direttori Che ti rompono le balle Si è messo in mezzo Nonno Quindi va bene Ci sono alcuni No Giorgio Non lo fa assolutamente Che ti fanno recitare Come vogliono Che loro Tu reciti Io non posso dire La battuta Come la dice Giorgio Non la posso dire Come la dice Ale Perché io sono io È ovvio Che se l'attore Che doppio Piange Non posso ridere Banale Ma è così È un lavoro È un lavoro Come tanti altri È un lavoro Che si fa al buio E io amo E io amo i lavori Che si fanno al buio Nel senso che Se il film La fiction Quello che ho fatto È piaciuto Per me finisce lì La gratificazione È in quello che ho fatto Non in quello che voi Mi dite dopo Poi se mi dite bravo Mi fa piacere Non è che dico Va a cagare È ovvio Però a teatro Lo spettacolo Finisce in ringraziamenti Se il pubblico Applaude E si è divertito Scusate Questo è il regalo Che fate a chi Sta sul palco I commenti Dopo Per me Lasciano il tempo Che trovano A un idraulico Che ha fatto bene Il suo lavoro Non gli faccio l'applauso Lo pago È un lavoro Come tanti Però è un bellissimo lavoro Ho finito Quello che mi ha detto Giorgio e Roberto Io posso Posso dire Come ho cominciato È una storia Diciamo Carina Da sentire Praticamente Vabbè Io ho seguito Le orme di mio fratello Che si chiama Gabriele Patriarca Anche lui è un bravissimo Doppiatore Come? Che ha vinto Il fantacalcio Con Roberto E Lui Da piccolino In realtà Ha cominciato cantando E Per puro caso Diciamo Mia madre Lui iscrisse Allo Zecchino d'Oro E lui vinse Allo Zecchino d'Oro Con la canzone Il Coccodrillo Come fa Quando sentite la canzoncina La voce di mio fratello Cioè erano due bambini E lui era uno dei due Da lì Era un bambino Molto spigliato Quindi fu invitato A varie trasmissioni televisive Una cosa tira l'altra Ha fatto delle fiction In cui In una di queste Proprio in presa diretta In una di queste Si doveva ridoppiare Doveva doppiare se stesso Perché a volte capita Insomma Come penso sapete E da lì Hanno forse notato Un talento In lui Aveva sette anni E hanno cominciato A chiamarlo Per fare i piccoli ruoli Che si fanno fare I bambini Insomma E in tutto questo Io ero in passeggino Con mamma E lo accompagnavamo Nelle sale di doppiaggio E guardavo Io volevo fare Tutto quello che faceva Mio fratello Quindi Cantare Cantavo anch'io Il doppiaggio Stavo lì E apprendevo Come una spugna Un po' tutto E Quando è capitato Un po' per gioco Di farmi incidere Una battutina Credo Un mamma Mamma aiuto Una cosetta così È un bambino piccolissimo Avevo cinque anni E Diciamo che ero Da quello che mi raccontano Ero già abbastanza preparato Già ero lì Molto Molto spavaldo Perché Perché avevo appreso Un po' tutto Avevo già Capito molte cose Seguendo sempre I turni di doppiaggio Di mio fratello E da lì è partito tutto Varie Insomma Piccoli ruoli Ovviamente Fin quando poi Al sette anni Ho fatto Nemo Che è stata una cosa Molto bella Per cui ancora oggi Mi chiedono di rifare la voce Ma non ho la stessa voce Di quando avevo sette anni E E poi tante altre cose Insomma Anche per me è stato È stato un caso E Ho avuto Diciamo Ho seguito le orme Di qualcuno Prima di me Di mio fratello Però ecco Poi Ci sono tanti casi Nel doppiaggio Di Di famiglie Persone Che Parentate tra loro No Penso Lo sapete tutti Ci sono molti pregiudizi Su questa faccenda Io sono dell'idea Dico una cosa Su questo argomento Sono dell'idea che Insomma In tanti lavori I lavori si tramandano I mestieri Si tramandano Di padre in figlio E questo è Come tanti altri Il falegname Che insegna il figlio A fare il falegname E tante altre cose Quindi è normale Che Capiti Io ho avuto Questa fortuna Di iniziare da piccolo Che è una fortuna Che hanno avuto In molti Nel nostro ambiente Ma Insomma È bello Perché ho imparato Tutto sul campo Non ho fatto scuole Di edizione Neanche di recitazione In realtà Ho Forse appunto Quando siamo molto piccoli Si riesce a apprendere meglio Poi È chiaro Ci sarà il talento E tutte queste altre cose Però ecco Quando Si comincia da più grandi Si vuole provare A intraprendere Questo mestiere Come ha detto Roberto Bisogna Bisogna Prima di tutto Imparare a recitare Saper recitare Essere attori E poi E poi Quella è un Diciamo Possiamo dire Una sorta di specializzazione Dell'attore Come possiamo dire Il doppiaggio È una Una cosa Eh Bisogna essere attori Ma è una cosa Totalmente diversa Dal fare l'attore Cioè Ci sono delle spaccettature Che poi un attore Di teatro Di presa diretta Cinema Non deve eseguire Insomma E Però Come Come gli attori Dobbiamo Ecco Una differenza sostanziale È che Noi non sappiamo nulla Di quello Che va fatto Insomma Prima di entrare in sala Non sappiamo nulla Né del film Né quasi nulla Vediamo le scene E Un processo Imitativo In cui poi Ogni Ogni doppiatore Mette del suo Ovviamente Perché Però dobbiamo cercare Di attenerci a quello Che fa Un attore di presa diretta Quando si tratta Di Di persone in carne ed ossa Poi ci sono i cartoni Però Ecco È una cosa Molto Difficile Molto particolare Che ha bisogno Di una preparazione Innanzitutto Di alcuni requisiti Che sono Un'edizione impeccabile Saper recitare Bene E Saper Anche Avere Un Ottimo orecchio Perché bisogna Anche spesso Intonarsi a quello Che fa l'attore In lingua originale Bisogna avere Un Un ottimo occhio Perché devi Guardare la bocca Del personaggio Tante cose Tante cose Che Poi Ognuno ha le sue Caratteristiche No Cioè Io per esempio Io sono uno Che Si concentra Molto poco Sono molto distratto E quindi In questo lavoro A volte pago Un po' Questa cosa Perché Molte volte Magari Ho bisogno Di più Di vedere più volte La scena Per cogliere Alcune cose Ci sono Nostri colleghi C'è un nostro collega Davide Perino Che per esempio Lui ha un problema Nel Una sorta di dislessia E ha un problema Noi dobbiamo Praticamente Contemporaneamente Leggere le battute E guardare lo schermo Quindi Con gli occhi Fare questo movimento E Lui Lui Quando guarda la scena Mi ha raccontato questo Deve guardare Prima tutta la scena Poi quando La registra Lui legge solo le battute E non riesce a fare Questa cosa Perché Insomma Sono due azioni insieme Che non riesce a fare Proprio di suo E ha sviluppato Una capacità Non so come Di Di memorizzare Un po' Le espressioni del personaggio E poi Lui legge E recita Ma senza guardare O guarda lo schermo O legge Non riesce a fare Diciamo Questo movimento Quindi ognuno Poi deve sviluppare La propria caratteristica Le proprie Il proprio modo Di fare questo lavoro E E la cosa bella È che siamo Tutti diversi Tutti Ognuno ha la sua capacità Di Di Fare alcuni personaggi Magari Magari c'è chi è più bravo A fare alcuni personaggi Buoni Cattivi Simpatici Brillanti E Tante Spaccettature Che fanno di questo mestiere Un mestiere bellissimo Che io Continuo a fare Perché Appunto È Pieno di Ogni giorno Possiamo essere Tante persone diverse È quasi un'evasione Dalla quotidianità E Niente Non so che altro aggiungere Poi se avete domande Insomma Risponderemo Non voglio dilungarmi troppo Grazie Applausi Ma io direi Di cominciare Con qualche domanda Magari rivolta Un po' a tutti Allora Dato che Questo comunque Caffè Rossellini Non è un'intervista Troppo seria Se Il pubblico ovviamente Può dialogare Può fare domande Ad alzare a di mano Una alla volta Non va a follate Ma no Vanno a interrogare Eccolo Eccolo Ecco bene Io Avevo una domanda A tutti per Alex È stato È stato Dificile Per un ragazzo Di sette anni Tutto Di un personaggio Il protagonista Soprattutto Di un film D'animazione Allora Diciamo che A sette anni Era un gioco Era un gioco Lo è tuttora In realtà Poi piano piano Quando si cresce Ovviamente Prendi consapevolezza Del fatto che Stai facendo Un mestiere Un'arte Bellissima E Magari la prendi Con più serietà Però Fino a una certa età Insomma Non è che Era un gioco Nel senso che Capivo Che stavo facendo Comunque una cosa importante Però Mi divertivo Talmente tanto Che comunque Provavo a fare Quello che mi veniva Detto di fare Perché poi Leggevo a malapena Sul copione Perché a sette anni Insomma si leggi Però Poi mi guardavo Il cartone In anteprima Quindi per me Era una cosa stupenda Carlo Valli Il direttore di doppiaggio Insomma Mi indirizzava C'era l'assistente Al doppiaggio Che è la persona Che sta in sala Con il doppiatore Di solito Che è Quella che guarda Il sync Soprattutto Che Mi dava Mi dava la bottarella Sulla spalla Quando dovevo attaccare E dire la battuta Quindi Diciamo Avevo tutta l'equipo Che mi hanno Coccolato E poi mi hanno Mi hanno aiutato A fare Questo personaggio E poi Niente Nemo è un pesciolino È un bambino Come lo potevo essere io Quindi Quindi era molto naturale Era tutto molto naturale E Molto divertente Poi al momento Non mi rendevo conto Di quello che stavo facendo Poi quando ho visto Il successo del cartone Ovviamente Mi sono andato a rivedere Al cinema Appena è uscito Era strano Però Ovviamente Un bambino Lo vede come un gioco Gli altri bambini Andavano Non lo so Facevano scuola calcio E altre cose Io andavo In sala di doppiaggio Per me inizialmente Era così Poi Piano piano Ti rendi conto Dello spessore Di quello che stai facendo E Ovviamente Ci metti più serietà Anche se forse È bello anche Non lo so Ci devi mettere la serietà Giusta Perché Se Se ci metti troppa serietà Poi non viene E bene Bisogna continuare Un po' a giocare Un po' a Sognare A A essere A essere Più naturali Possibile Come può essere Un bambino Di sette anni Capito Va bene Grazie C'è qualcun altro Che Aspetta C'era il ragazzo Lì Poi lì Ciao Sono Simone E volevo fare Complimenti Vabbè A tutti Però Volevo In particolare Roberto Draghetti Che a mio parere È una delle voci Più fighe Veramente E volevo chiederti Non so se oltre a me L'hanno vista Però io ho visto La serie Vinyl Quella prodotta Da Scorsese È stata È una bomba vera E volevo chiederti Lui il protagonista È un personaggio Parecchio tosto È comunque Bello schizzato No E Com'è stato Cioè Perché comunque C'è parecchi Niente Grazie Grazie Prego E vai Sì È stata una bella serie Perché sì Non era schizzata Era strafatto Dalla prima All'ultima Di dieci puntate Esatto Vai sulle esperienze personali Quindi No No Grazie Mi sono divertito molto Perché è un personaggio Un po' fuori dalle righe E abbiamo lavorato bene Fondamentalmente Quello diceva Ale È fondamentale È un È un gioco serio Per stringere un po' Quello che dicevi E lì Lì ho giocato Ho giocato a fare Il cocainomane Strafatto Sì I miei ruoli E quindi No Mi sono divertito E più ti diverti Più lo fai bene Forse anche nelle mie corde Non per un fatto di vita Vissuto Perché io sono allergico Tra l'altro A cocaina Quindi Non potrei No È vero Come l'ho scoperto Non lo so Però Sono allergico È stato Un bel risultato Perché abbiamo collaborato Un po' tutti Nonostante problemi Un po' di copioni Perché Parlavano Della musica Che sentivo io Quando ero ragazzino Quindi anni 70 80 E il traduttore All'adattatore Questo quello Ve lo dico Perché c'erano Dei gruppi Dice no Perché Non possiamo portare Negli stadio Gruppi tipo Emerson Lack & Palmer Si Jet Total E si Erano gli yes E lui l'ha tradotto Emerson Lago E Palmer Cioè Grazie Sempre Roberto Volevo Volevo solo chiedere Ma Qual è un personaggio Che ti è particolarmente Piacere doppiare O comunque Uno comunque Che ti ricordi Particolarmente Cioè Non so Giorgio Rispondi tu Qualcuno in particolare Non saprei Mi sono molto divertito A doppiare Luther Una serie Della RAI Che ha fatto Idris Elba Ma Non ci sono Attori Che mi piace In particolare Mi piace molto Jamie Fox Che ho doppiato spesso Ci sono i prodotti Che mi piace fare Perché poi Non è solamente Un discorso Personale Vinyl funzionava Per ritornare al discorso Perché poi Era un gruppo di persone Con cui abbiamo Lavorato bene Quindi ci sono attori Che mi piace fare Perché sono bravi Gli identi Solamente andare appresso Altri meno bravi E quindi ci metti Un po' più di tuo Per far capire Quello che vorrebbero Farti capire loro Spesso è così Ci sono delle serie La casa di La casa di carta Non so chi l'ha detto Siamo partiti a fare La casa di carta Stringo perché così Non lascio spazio Anche a loro Partendo diceva Una serie spagnola Chissà com'è Dopo la prima puntata Eravamo tutti in fissa Sulla casa del papel La casa di carta Ed è bellissima Cioè non mi capitava Di vedere un prodotto Spagnolo Fra l'altro Ci stanno dando Le mele pure gli spagnoli Ma proprio Ci passano avanti così Ed è bello Quindi non è stato Quello che ho fatto io È stato quello Che abbiamo fatto noi Quando ti senti E se non penso Che l'ho doppiato Vuol dire che la cosa Mi è piaciuta talmente tanto Che sono andato oltre Se comincio a dire Madonna Questa potevo farla meglio Vuol dire che Non mi è piaciuto Quindi non ti potrei dire Un personaggio Uno Capito Allora Siamo in fase di chiusura Quindi C'è una domanda? Vabbè Buonasera Io ho una domanda Forse un po' troppo teorica Abbiamo parlato Di prodotti Già confezionati E di A giusta caldaie E falzari Quindi volevo chiedere Quando è che Questo prodotto Diventa arte E perché? Grazie Volevo dire una cosa A quella ragazza Come si chiami? Laura Per darti anche Una speranza Cioè Sì Si può fare arte Sicuramente anche Col doppiaggio Oltre che col teatro Che col cinema Con tutto Si può fare arte Con la propria vita E basta capirla Basta comprenderla E farla capire Anche agli altri Questo è importante Perché in questo modo La comprensione Delle cose Che si fanno Quindi Un segno Che Non è più Sconosciuto Ma diventa Ma diventa Conosciuto Attraverso Chi te lo fa Conoscere E chi te lo fa Conoscere Può essere solo uno Che l'ha compreso Da questo punto di vista Si può fare arte Quindi tu Che fai Il doppiaggio Per intenderci Che entro certi limiti È una cosa Che molti dicono Ma basta Ma che è Sto il doppiaggio Ma basta Sottotitoli Ma basta Allora Io penso Soltanto Vi dico questo Penso soltanto A quando c'avevo Più o meno A vostra età Se ci fossero stati Sottotitoli Io che andavo Per pomiciare Con la ragazza Va bene Che facevo Io dovevo dire Scusa cara Non ho capito La mazza Di che Che c'è scritto E lei mi dice Ma come Non stai pensando A me Ecco Sì no Va bene Ora Lui mi prende in giro Diciamo Questo per dire Che è importante Invece Dare un'interpretazione In una lingua Che viene compresa Dai più Ma proviamo a pensare Intanto Il cinema straniero Non solo Unicamente americano Fatto con i sottotitoli Allora Io guardo il sottotito Come Perino O guardo il sottotitolo O guardo il film Uno Quindi se mi posso Abbandonare Alla storia E vedo tutto Il quadro Sono più contento A meno che Non conosca la lingua Allora io vi auguro Riconoscere Il cinese Il giapponese Il turco L'iraniano L'usbeco Il russo E tanti altri Idiomi del mondo Perché solo in questo modo Si può Godere Della Originalità Di un film Altrimenti c'è il doppiaggio Che si avvicina Si è fatto bene Con i direttori giusti Con gli attori giusti Con la voglia giusta E con il tempo Anche se risicato Però Te lo prendi E ti prendi anche Ti assumi la responsabilità Di dire Mi ci vuole un giorno in più Poi non lavori più Però per quel film Per finirlo bene Mi ci vuole un giorno in più E me lo prendo E Se vuoi me lo paghi Ma a tutti lo paghi A me puoi anche non pagarlo Chi se ne frega Però io Devo aver portato a termine Quel lavoro In un certo modo Che è Il fatto di poter far capire La gente deve poter Godere di una bellezza Di un'altra idea Di un altro mondo Di un'altra nazione Di un'altra terra È importante Lo può fare solo Nella nostra lingua Se no è difficile Molto difficile Grazie Grazie di essere stati con noi Direi di Direi di concludere Diciamo Quest'incontro Aspetta Abbiamo altre domande Chiediamo però agli ospiti Risposte flash Così Chiudiamo Esatto Salve Io avevo una domanda Per Alex Perché A me Mi sembrava Anzi Pensavo fosse la prima domanda Che uscisse Tu sei il doppiatore Parla no Oddio Non renderebbe l'idea No Quelle sono cose Che ricreiamo in sala Allora Se vuoi sapere la verità A noi capita molto Ammazza mi sente bene Sto microfono È bello Capita Spesso di doppiare Quando doppiamo Soprattutto cose di cinema Di Diciamo Doppiare su Dei video Che sono Totalmente Totalmente Sono parzialmente Oscurati Sfocati Alcune scene Sono Si vede solo il pallino Con la bocca del personaggio Con la faccia del personaggio Perché Per tante cose La pirateria E tutto Cioè Pensate se un hacker Entrasse nei server Di una società Di doppiaggio Che c'ha il film Avengers E lo Lo divulga al mondo È un po' un problema Quindi Scritte cose In bianco e nero Quindi Quell'ultima scena Di cui parlate Praticamente Io Avevo Più o meno Intuito Però dicevo Ma no Non è possibile Non dico che cosa Perché vabbè Anche se forse lo sapete tutti E Quindi io L'ho doppiata Ma pensando Che poi ci fosse Un risvolto positivo Poi Anzi Purtroppo Prima di andare al cinema Molti mi hanno scritto Complimenti per quella cosa Quando è successo Io ho detto Ma come Ma perché Lo sapevano gli altri Io non lo sapevo Quindi questo per dire Che Che molte volte Noi Quasi Purtroppo Non per colpa nostra Quasi Non ci rendiamo conto Di tutto quello Che facciamo Di come va a finire Poi il film Perché magari Dobbiamo solo le nostre parti Quindi Ci concentriamo sul nostro personaggio Ma poi Magari non sappiamo Tutta la storia Di tutto il film Poi vabbè Sono andato a vederlo E ho visto Purtroppo Cosa è successo E No è stato bello Vabbè Quello è un personaggio A cui ormai Mi sono affezionato E soprattutto Poi ho conosciuto Anche l'attore Dal vivo Tom Holland Quindi è stato Bello Perché comunque È una bella emozione È sempre divertente Soprattutto Più che guardarlo Sentire Sentire La sua voce E Sta venendo giù tutto Sentire la sua voce Dal vivo Perché Il suo timbro di voce Diciamo Io mi devo intonare molto Vogliono che io Mi intoni molto Al suo timbro Ai suoi acuti Perché c'è una voce Molto acuta E infatti Devo Diciamo Alleggerire Si dice Alleggerirmi un po' Sembrare un pochino Più piccolo E Sentirla dal vivo È strano Perché comunque La senti sempre in cuffia Ti ci devi intonare molto Ti devi concentrare Su quello E Mi ha fatto strano Mi ha detto Come stai Insomma che figo Che sei il mio doppiatore È stato Molto divertente E Niente Vabbè No la scena Non te la rifaccio Perché È venuta bene Solo quella volta E poi basta E Va bene Grazie mille Di essere stati con noi Io volevo Fare qualche ringraziamento Prima di chiudere Al Quinto A Per l'allestimento scenico E le riprese Facciamo un applauso Edoardo Pappa Spero di non sbagliare i nomi Scusatemi Gargiuli Pietro Giulia Bucani Rossella Megliola Il professore Novelli Per le riprese Un applauso Il professore Brizzola Per l'audio E grazie mille a voi Di essere stati con noi Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti